Bene, che faccio? Fate un giro. Club, prove a tempo. Storici, ai rally storici. Rally classici. Moderni, bolidi del presente. Ritorno agli anni 80. Trofeo, Coppa Leggende. Oh, ma sono tutti campionati. Perso, fate un giro. Le prove a tempo sono una nuova giunta a Dirt Rally 2.0. Nelle prove a tempo, l'obiettivo è ottenere il tempo migliore in un determinato luogo e in condizioni condivise da tutti i partecipanti. I tuoi risultati saranno pubblicati nelle classifiche, dove potrai confrontare i tuoi tempi con quelli dei tuoi amici e della comunità. Incredibile. Non c'è una roba facile che posso provare? Non esiste una roba facile, secondo me. Proviamo dal primo. Las juntas. Giorno sereno asciutto. 8 chilometri. Va bene. E quindi? Che prendo? Più vai avanti, più sono potenti. Guardi questa? Sennò questa. Quella di prima, quanti cavalli aveva? Che ho usato adesso durante il campionato, ho finito male? Io voglio una Subaru, comunque. 320. 280. Magari questa? 600? Ops. La metà. Magari questa, provo. Vediamo un po'. È che bisogna prenderci la mano provando, quindi si prova. Ok. Prova a tempo, quindi farò il mio tempo. Ok, inizia. Pneumatici. Pneumatici. Morbide. Uno pneumatico ha prestazioni elevate, ideato per le tappe su Ghiaia. Il battisade è particolarmente profondo, migliore aderenza e trazione, ma la durata ridotta implica che si logora in più in realtà. Si logora poco, ha dato condizioni molto abrasive. Anche se le prestazioni non sono elevate come le varianti più morbide, la sua trazione dura più a lungo su una tappa. Può essere stato quello. Facciamo quello. Vai. 5, 4, 3, 2, 1, via! 30. 4 sinistra, apre. 50. Cosa? Cosa? Tieni la destra su possibile salto, in 6 sinistra, 30. 4 sinistra, in non visto, 1 destra, apre. Cosa dicevi? Tieni la destra su 80. Non visto, 4 sinistra, 30. 5 sinistra. Ma cosa dice 5? 60 su dossi, attenzione, 1 sinistra, non visto. Cosa sta dicendo? Bro, ma in che lingua parli? Ok, proviamo così. Non parla più. Intornante non visto, a destra, stretto. Intornante non visto, a destra, stretto. Stretto con 6. In 5 sinistra, 30. Cosa dice? 4 destra, in 3 sinistra, in 2 destra, stringe. Secondi? 30. Taglia, 3 sinistra, lunga, stringe in tornante a sinistra, non visto. Cosa? Tieni la sinistra su 30. Attenzione, non tagliare, 4 destra. Cosa tagliare? 4 sinistra, in non visto, 1 destra, taglia poco. Cosa taglia? Cosa dice? Cosa dice? 4 sinistra, tieni la destra su 30. Attenzione, non visto, tornante a sinistra. Non visto cosa? Un ufo? Che è passato? In non visto, tornante a destra. Apre. Apre cosa? In 4 destra, in non visto, tornante aperto a sinistra, apre. In tornante aperto a destra, apre. Facciamolo piano. In 3 destra su crinale, in 4 sinistra, in 1 destra, stringe. Cosa ha capito? In che lingua sta parlando? Tieni la destra, su 30. 3 sinistra, lunga, stringe 2. Apre su crinale, in 5 sinistra, in 4 destra. 4 sinistra, lunga, condossi, 30. Perfetto, perfetto. Rallenta, 2 destra, lunga, stringe in tornante aperto a sinistra. In 4 destra, su dosso. In attenzione, 5 sinistra, 30. Su brutti, dossi, non visto, tornante a destra. Brutti? Perché fa body... Shaming dossi? Non ho capito. 30. 6 destra, 50. Attenzione, tieni la destra, non tagliare 5 sinistra. 30. Tieni la destra, non tagliare. Crinale, e 1 sinistra, lunga, stringe, tornante a sinistra. In 5 destra. In non tagliare 5 sinistra, in 1 destra. 30. Tieni la sinistra su crinale, e dosso in 1 destra, stringe. 50, su dosso in 2 sinistra, stringe. 50, su dosso in 2 sinistra, stringe. 30. 30. 3 sinistra, 30. 30 cosa? Non visto, 2 destra. Stai sul cazzo. Tieni la destra, su 50. 1 sinistra, 1 sinistra, stringe. Tieni la destra, su 50. 1 sinistra, stringe. 30. 5 destra, lunga, apre, 80. Pensate a giocare col volante? Stare impazzendo. Salto in 6 sinistra. Salto, salto, salto. In rallenta, 6 destra, molto lunga, su crinale. Stringe. Tornante a destra, non tagliare. Non ho capito. Ma poi scusa, uno che ha problemi con la memoria, che si dimentica le cose, come fa a ricordare... 50. Crinale. 3 sinistra, taglia poco in 4 destra. Dovresti ripetere più volte le informazioni. 50. 50 cosa? 4 sinistra, lunga, stringe. 30. Tieni la destra, sull'incrocio. Tieni la destra, sull'incrocio. Ma perché mi ha preso? Oh no. In 4 sinistra, e non tagliare. 3 sinistra, in 1 destra. In 6 sinistra, 50. Bisogna capirlo, certo, ma è la prima volta che sento... 6 destra, 30. ...una roba del genere, quindi capite che... 3 sinistra, molto lunga. ...possa rimanere un po' traumatizzata. 50. 5 destra, in 4 sinistra. Ok, ok, ok. La terminiamo, la terminiamo. In 4 destra, lunga, apre, 30. Attenzione, 2 sinistra, stretto. Stretto come il mio culo in questo preciso istante. Dossi, in 4 destra, 30. 1 destra, lunga, apre. 4 destra, lunga. In 3 sinistra, non tagliare. E tieni la destra, 30. Apre, tornante a sinistra. 50. Rallenta. 4 destra, su crinale, lunga. Ma perché mi diceva che non pare? Stringe 2, in 2 sinistra. Apre, 30. 6 sinistra, su crinale, 50. Non visto, 2 destra. Non è se non serve, spesso non è risultato che è successo. C'è un problema al motore. In non visto, 2 destra, taglia poco. C'è un finto di niente, ragazzi. 2 sinistra, lunga, stringe. In 2 destra, lunga, apre. Stringe, tornante a destra, stringe. C'è un problema al motore. Ah sì? In 1 destra, stringe. Apre, lunga. In 1 destra, non tagliare. In 2 sinistra, lunga. Stringe, apre. In 2 sinistra, lunga. Stringe 1. In 1 destra, lunga. Stringe, tornante a destra. 30. In 1 sinistra, lunga. Cazzo. In 6 sinistra, tornante a destra, improvviso. Cosa? Improvviso. Apre. 4 destra, lunga. 4 destra, lunga, socrinale. Dosso, attenzione. 30, 1 destra. Comadre. Comadre! Intornante a sinistra. In 6 destra. In 6 destra. Ed è veramente un'esperienza traumatica. Vieni la sinistra su 50. 4 destra, stretto. 30. Facci tutto di capire quello che dice. 3 sinistra, sudosso. In 2 destra, 20. 1 destra, lunga, stringe. In 5 sinistra. 4 destra, lunga, socrinale. Intornante a sinistra. 4 destra, lunga, socrinale. Cazzo. Sta per esplodere l'auto, mi sa, ragazzi. Fa fatica ad accelerare. In 2 sinistra, lunga, socrinale, socrinale. Su arrivo. 30. Su salti. 4 sinistra, 4 destra, allo stop. Ben fatto. Mamma, che fatica! Ok, bello però, mi è piaciuto. Ciao pilota. I numeri dall'1 al 6 sono le curve. 1 curva stretta, 6 curva veloce. I numeri 10, 30, 50 sono i metri prima di una nuova curva o incrocio. 1 curva stretta, 6 curva veloce. Che cazzo se lo ricorda? Ok, proviamo un altro tracciato adesso. Mi devo, 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 devo. Era difficile questo? Prova tempo. Ok, cosa prendo? Ditemi voi, non lo so, abbiamo provato il primo che c'era. Questo? Ovviamente quando... Sull'asfalto è più semplice, tra virgolette, no? Neve? Queste sono le prove a tempo, quindi... Non c'è la neve. Asfalto liscio terra. Che provo? Asfalto granuloso, asfalto liscio terra. Boh, proviamo a caso. Proviamo il secondo, sentite. Proviamoli uno alla volta, giusto per vedere come sono, che si fa. Vedi, puoi creare anche, cioè vedere giorno nuvoloso bagnato o asciutto. Questo è ancora più lungo, 12 chilometri. Proviamo. Provo con la stessa. Minchia, è lunghissimo il percorso, mi scoppieranno gli occhi. E i timpani. Però, bello. Difficile, ma bello. Non devo ripararla, vero? Inizia. Uh! Attento al navigatore. Non si capisce niente di quello che dice, comunque. 5, 4, 3, 2, 1, via! 52 lunga, presso crinale, in ponte stretto, asfalto. Cosa? Ok. In 2, destra, lunga, apre campanatura negativa, 40. 5, destra, in 4, sinistra, lunga, attenzione, stringe su ponte. Su ghiaia, 30. 4, destra, su crinale, in 6, sinistra, 80. Non si è capito niente. 6, sinistra, lunga, su possibile salto. Lenta, 30. 5, sinistra, lunga, stringe 4. In 5, destra, su crinale, 30. 3, sinistra, stringe. In 3, destra, lunga, stringe, crinale. 50, crinale, in asfalto. In 4, destra, apre su crinale, 30. Cos'è un crinale? 2, sinistra, stringe, non tagliare. In 2, destra, apre su ponte stretto, 80. In 2, destra, apre su ponte stretto, 80. 6, sinistra, lunga, stringe, su piatto, su crinale, 150. 5, destra, lunga, apre su crinale. In 6, sinistra, lunga, su crinale. In 6, destra, lunga, stringe, taglia su ghiaia. In 6, sinistra, lunga, apre su crinale, 30. Stai zitto. In 6, sinistra, lunga, apre su crinale, 30. 5, destra, in 3, sinistra, su crinale, non tagliare. In 5, destra, su crinale, apre lunga, 30. Tutto sotto controllo ed è stato pure fatto apposta. 5, destra, lunga, stringe, 4. 30, centro, piatto, su grande salto, 80. Piccolo crinale, 60, 4, destra, lunga, stringe. In 4, sinistra, apre su crinale. In 4, destra, stringe. In 5, sinistra, lunga, stringe, 2, taglia. Apre, 30. 6, sinistra, in 4, destra, lunga. In 3, sinistra, lunga, stringe, non tagliare. In 4, destra, lunga, apre su piccolo crinale, 30. Crinale in 6, sinistra, lunga, stringe. Apre, piatto, su crinale, 120. Eccolo, sto pezzo di fango. Scusate. Andiamo avanti. 3, destra, apre, crinale. In 6, sinistra, 50. Attenzione, 2, destra, stringe. In 2, sinistra, apre su crinale, 80. Preso il muro. 6, sinistra, su crinale, lunga. Stringe dopo l'incrocio, continua molto lunga. E attenzione, stringe 2. 30. 4, destra, lunga, apre su crinale, molto lungo. Quasi, quasi. Sh, 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 sh. Attenzione, rallenta, 30. 5, sinistra, lunga, su crinale, stringe 2. Quando devo rallentare? Non ho capito. Apre, 50. 6, destra, apre, 80. Qui forse devo rallentare. Centro, piatto, su crinale, 50. 5, destra, stringe, apre su crinale, 80. Non ho capito niente. Pianto, piccolo, crinale, 150. Ha detto pianto? No, perché pare sto per mettermi a piangere io. 6, sinistra, lunga, stringe 5, 80. Rallenta, 5, destra, lunga, stringe 2, su crinale. Apre, 30, discesa. 4, sinistra, lunga, stringe. Oddio, oddio. Apre, su crinale, 30. Tieni la sinistra, su crinale, lungo, 30. Ho sbagliato. 5, destra, lunga, rallenta, 30. Angolo retto, destra, cieco. In 5, sinistra, apre. Piatto, destra, su crinale, continua, su lungo, crinale. Accendi la radio, al salvo, me così non lo senti. In 5, destra, lunga, stringe 2, non tagliare. Apre, su crinale, in 3, sinistra. Ho preso in pieno, proprio. In 5, sinistra, in 4, destra, su crinale. In 6, sinistra, lunga, stringe 5, su crinale, 50. 6, destra, su crinale, 80. 3, sinistra, stringe 2. 50. Crinale, in 5, sinistra, lunga, stringe 3, lunga. In 6, destra, su crinale, lunga, stringe 3, apre. 6, destra, su grosso crinale, e possibile salto. In 4, sinistra. Apre, 30. 6, sinistra, in 6, destra. In 6, sinistra, apre, su crinale, lungo. In improvviso, stretta, 3, destra, 80, discesa. Quando, quando? 80 metri. 5, destra, su crinale, in 4, sinistra. 80, crinale, discesa, 5, sinistra, 50. 5, destra, su crinale, in 6, sinistra. Tieni la destra, su 120. Attenzione, 3, destra, su crinale, stringe 1. Cosa? Ripete? In 2, sinistra, non tagliare, apre, in 2, destra, stringe, su crinale. Cosa? Il motore sembra aver perso potenza. Incredibile. Strano. 4, destra, sinistra, lunga, apre, su crinale. E, 6, sinistra, e 4, destra, lunga, su crinale, stringe 2. In 5, sinistra, rallenta, 30. Checa, 1, sinistra, stringe, 40. 3, sinistra, stringe, su crinale, in 4, destra. Chissà quanto sto andando. Ci vuole il contatto. In 3, sinistra, apre, su crinale, 50. 1, destra, stringe. In 6, sinistra, apre, su crinale, 70. 5, sinistra, crinale, in appallamento, e, attenzione, 5, destra, stringe, 2, su crinale. 50, discesa, 1, sinistra, stringe. Bisogna frenare, ma anche accelerare nel momento giusto. E, 4, destra, lunga, su crinale, stringe, 2. Stringe, e, 4, destra, lunga, su crinale, stringe, 2. Stringe. Oddio, non parte più, guarda. In 5, sinistra, in 5, sinistra, apre, su crinale. In 5, destra, su incrocio, 30. 4, sinistra, in stretto, 6, destra. Il motore è andato veramente. Pianto, sinistra, 40. 4, destra, stai all'interno, su crinale, e, salto, in 3, sinistra, stringe, non tagliare. In 4, destra, apre, su crinale, in attenzione, 2, sinistra, su crinale, stringe, 1. Dio mio, stai calmo. Non va più l'auto. 50 su crinale, discesa, 2, destra, stringe. Sento un rumore strano, sta per scoppiare. In 2, sinistra, 40. Forza. 4, destra, su crinale, in 5, sinistra, molto lunga, stringe, 4, su crinale. Per quanto chilometri è lì? Si vede. Non va più, mi sa che... 3, destra, su crinale, apre. È andata. In piatto, su crinale, 30, 5, sinistra, non tagliare. Ce la facciamo ad arrivare alla fine? Non lo so, raga. In 6, destra, apre, piatto, centro, su salto e tieni la sinistra su 80. Guardate quanto sta andando, guardate, chilometri orari, non riesce. 5, destra, stringe, in 4, sinistra, lunga, apre, 50. Siamo quasi alla fine. Quasi, quasi, quanto manca. Centro, piatto, su grande salto, 80. Un grande salto che sarà fatto senza il salto. 6, destra, rallenta, 40. Stai al centro su crinale, in 3, destra, stringe. Figo però che l'auto si rovina. E influisce tanto. In 3, sinistra. Un bel po' mi sta. In 3, destra, su crinale, in 4, sinistra, apre, 50. Dai, 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 ci siamo quasi. La spia del motore è accesa, facci piano. Ebbè più piano di così. 6, sinistra, su crinale, 120. 6, sinistra, 100. Dai, 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 ci siamo, ci siamo. Piatto destra, su grande crinale, e salto, 50. Crinale piatto, 80. 6, destra, su arrivo. Ben fatto. Devo fare una cosa, devo modificare la sensibilità. Della levetta, del volante. Veramente fish. Ho subito anche la penalità. Vabbè, è tutto a posto. Ma si ripara, mi sa, nelle prove a tempo si ripara da solo senza che io debba fare nulla. Allora, comandi. Controller. Sensibilità a sterzo. Io lo abbasserei un pochino, magari a 40. E proviamo così. Ok. Poi. Proviamo un'altra. Durante un campionato. Ah, ok. Proviamo il prossimo, vediamo com'è. Ho provato questo, il primo, il secondo, il terzo adesso. Tutto su ghiaia. I piloti dovranno fare attenzione alle sale tortuose, ai fossi, ai cumuli di fango lungo il ciglio della strada perché questi ostacoli possono punire anche la più piccola, la più piccola mancanza di concentrazione. Eh, dai, beh, vediamo perché era, io l'ho visto due euro, ho detto lo voglio. Ho sempre voluto giocare a un gioco così, però non ho mai avuto l'occasione di provarli effettivamente. E quando l'ho visto ieri su stima due euro, ho detto no, io lo prendo. Proviamo questo, dai, questo andrà malissimo. Andrà molto male. Sarà un disastro, guardate quante curve. Però li stiamo provando uno per uno e così sto anche imparando. È difficilissimo, certo. Ho sempre pensato che i piloti del rally siano i più cazzuti in assoluto. E l'ho anche detto quando guardavamo i video. Ho detto che, secondo me, i piloti più forti non esistono, se non quelli del rally. Devo imparare ad ascoltarlo, capirlo, ma ci vuole pratica. Siamo soltanto alla terza... 5, 4, 3, 2, 1, via! Uno destra, molto lunga. Apre, 30. Uno sinistra, stringe. 30. 4 sinistra, non tagliare. In 3 destra. In attenzione, non tagliare 3 sinistra. 50 su crinale. Uno destra, stringe. Apre. Insomma, io lo faccio con più calma. In svolta, non vista, non tagliare. Uno sinistra, stringe. E 3 destra, apre. 2 sinistra. Scusate. In 3 destra. Apre. In 1 sinistra, stringe. E svolta. 3 destra. In svolta immediata. 4 sinistra, su crinale. Apre, lunga, non tagliare. Stringe 2. In taglia possibile 4 destra. 30. Oddio mio. 3 sinistra. In 3 destra. Apre, 30. Apre, tornate destra. In 3 sinistra. In 5 destra. In 4 sinistra, molto lunga. Apre, 30. Madonna santa. 3 destra. In 3 sinistra. In svolta, 2 destra. Apre. In 4 sinistra. Apre, molto lunga. Stringe su crinale. In 3 destra lunga. Non tagliare. Apre. Oddio, oddio, oddio. In 2 sinistra, stringe. Non tagliare. In 6 destra. In 3 sinistra. Non tagliare. Attraverso gratta stretta. Apre, su crinale. In 6 destra. Sovranale. In 3 stringe sinistra. Non tagliare. Dio, il mare. Se mi lancio di sotto, muoio. Forse muoio schiantandomi male qua, così a caso. In non tagliare. In 4 sinistra. In 5 destra. 20. 4 sinistra. In rallenta. 2 destra. Molto lunga. Apre, su crinale. In 4 sinistra. 20. Tieni la destra. Su crinale. Svolta. Non vista. Tornante aperto sinistra. Quando arriva quella curva strana? Qua? 3 destra. Su crinale. Oddio. In 5 sinistra. 30. 4 sinistra lunga. Stringe. In 6 destra. E 6 sinistra. In 2 destra. Stringe. Ottenuta. Cioè, non è vero. Però non mi sono schiantata. In 2 sinistra. Stringe. In 4 destra. Apre, su crinale. In 6 sinistra lunga. In 5 destra lunga. Stringe 3. In 5 sinistra. Non tagliare. E tieni la destra su 30. 6 sinistra. Su crinale lungo. Stringe 3. Non tagliare. In 2 destra. Ogni volta che dici crinale mi vengono in mente i cavalli. In non tagliare 3 sinistra. Era quasi perfetta sta turba. 6 destra. In rallenta. 1 sinistra. Stringe. In 1 destra. Stringe. Apre. 60. Su crinale. Stringe le chiappe. Più forte che mai. Rallenta. 2 sinistra. Chiude stretto. 30. 4 sinistra. Stringe. In 5 destra. In 4 sinistra. In 2 destra lunga. Apre. In 6 destra. Su crinale. In 1 sinistra lunga. Stringe. In 2 destra. Apre. Su crinale. In 2 sinistra. No, no, no. Apre su crinale. E 4 sinistra. Stringe 2. In 1 destra. Ti prego. Apre. In 2 sinistra. In 1 destra lunga. Apre. In 4 sinistra molto lunga. Stringe. Apre. Non tagliare. Apre. Chiude. Chiude. Stringe. Non tagliare. Svolta. 2 sinistra lunga. Apre. Stringe 3. In 3 destra. Stringe. 6 sinistra. Destra. In 1 sinistra. Stringe. In 6 destra. Carina questa. Tieni la sinistra. In 1 destra lunga. Apre. In piatto sinistra. Merda. 30. 5 destra lunga. Apre su crinale. In 4 sinistra. In 3 destra. In attenzione. 4 sinistra lunga. Stringe. 3. Non tagliare attraverso cancello stretto. Apre. 30. Ho sbagliato. 3 sinistra lunga. Stringe. 5 destra stretto. 2 sinistra. Stringe. In 6 destra. Ho sbagliato. Ho sbagliato. In 4 sinistra. In attenzione. 5 destra lunga. Stringe 1. In 6 sinistra. Su crinale. Carina. Apre. Tieni la destra. Su 60. Almeno non ha preso il volo. 3 sinistra. in 4 destra. Oddio mio, che cazzo è successo? Vai, vai, vai. In 4 destra. 4 sinistra. Molto lunga. 80. 2 destra. Stringe. Apre. in 3 sinistra lunga. In 4 destra. Apre su crinale. In 1 destra. Stringe. Apre. In 3 sinistra. In 5 destra. In non tagliare. 4 sinistra. Molto lunga. Apre. e 5 destra su crinale. Apre lunga su crinale. Attraverso grata stretta. Sì, sì, sì. Tieni la sinistra su crinale. In 4 destra. In raletta. 2 sinistra. Stringe. Non tagliare. Merda, merda, merda. Ho sbagliato. Non fa niente. Che bella vista! In 3 destra su crinale. In non visto. Non tagliare. 1 sinistra lunga. Stringe. Tieni la destra su 30. Non tagliare. 5 sinistra. In non tagliare. 1 destra lunga. Oddio, oddio. Apre. Porca troia. In 2 sinistra. Stringe. In 1 destra. Apre su crinale. Merda, queste curve qua. Le sto sbagliando tutte adesso. Non vedo più nulla. Non so dove sono. Un'altra penalità. 3 sinistra. E 5 destra su crinale. Apre lunga su crinale. Rallenta. 4 sinistra lunga. Stringe 1. Stringe. Cosa stringe? Oh, oh, oh. Che svolta. 1 destra. Stringe. Quasi. A caso. Tieni la sinistra su 40. 5 destra su crinale. Molto lungo. Stringe. In 4 sinistra lunga. Attenzione. Stringe brutta. In 4 destra. Apre su crinale. 30. Oh, madonna. 60. In 4 destra. Apre su crinale. 30. 5 sinistra. Stringe su crinale. In 5 destra. Il motore non è andato a puttare stavolta però. In 3 sinistra. Stringe. Dove era quella stringe brutta? In taglia. 6 destra su crinale lungo in svolta e rallenta. Tornate cieco aperto sinistra. Non tagliare. Foratura all'anteriore destro. Fermati e sistemala o continua. Cosa? Continua. In 6 destra su crinale e salto. Cosa è arrivata? Rallenta. 20. Non tagliare. Tornate aperto destra. Apre. Tieni la destra su 30 crinale. 3 sinistra lunga. Apre. In 4 destra lunga. Apre su crinale. La spia del motore è accesa. Facci piano. In 3 sinistra. Apre su crinale. È possibile salto. Su arrivo. 60. Che cazzo è successo? Oh mio Dio. Che fatica. Però è andata meglio. È andata molto meglio di prima. Molto. Un applauso per me. Dov'è? Prossimo. No cos'è? Ok non fa niente. Facciamo. Facciamo. Vediamo ancora uno. Ciao Peter Bun. Abbiamo fatto il terzo. Asfalto liscio terra. Facciamo il quarto. Zaropka. 16 chilometri. Falle col volante. Col joypad è facile? Facile col joypad? Ma cosa dici? Col volante? Il volante? Voglio provare col volante. Ma devo montarlo? Proviamo. E poi comunque non è facile neanche col volante. È il controller all'inizio. La prima volta che provo è difficile. Devi prenderci la mano. Col volante sarà tostissima. Però è da provare. Ce l'ho proprio... Ce l'ho proprio qua. Quanto sarà difficile qua adesso. Lo so Peter. Anche così lo capisco. Però col volante proveremo. Pronti? Pregate per me? L'ultima gara della serata? 5, 4, 3, 2, 1, via! Piatto sinistra, 50. 6 destra su crinale, non tagliare. 6 sinistra, 50. Spagliato strada. Piatto al centro su crinali, 80. Tieni il centro su salto, 50. 4 destra stretto, 80. Tieni il centro su salto, 50. Sappivo! 6 sinistra su salto lunga, stringe su crinale con salto. Tanti salti qua. 120. Tieni la destra in 5 sinistra lunga, stretto su dosso. In 6 destra, 80. Oddio, oddio. Su crinale lungo, in 6 sinistra, stringe dopo il crocio, 30. Mi fa paura questa strada qua. Quattro destra, stretto su crinale. Non tagliare. Fa più paura qui che prima. 5 sinistra, apre lunga. In 6 sinistra, 30. Quattro destra lunga, stringe su crinale, 50. Non tagliare. Quattro sinistra, in 6 destra. In 6 sinistra lunga, 30. 6 sinistra su crinale, apre molto, molto lunga. In rallenta, 6 sinistra lunga, su dosso. In 3 destra, su crinale, dosso. In 4 sinistra lunga, in 1 destra, apre lunga, asfalto. Non tagliare attraverso i covoni. Tieni la destra su 30, 1 destra. Porca proia! Apre su crinale, ghiaia, 50. Quattro strada, vero? No, dove cazzo non tagliare? Abbiamo una foratura nello pneumatico posteriore sinistro. Ma cosa? Di già? 5 sinistra, in piatto destra, su crinale. Posso riparare la foratura? Apre lunga, stringe su salto. In 5 sinistra, su crinale. Stringe molto lunga, in 6 destra, 50. Quattro destra, molto lunga. Apre piatto su crinale, in 6 sinistra. La foratura va a influire un po' adesso come minimo. In 6 destra, in attenzione, 5 sinistra su salto, 50. Non sta dritta. Faticati. 6 sinistra, molto lunga, stringe su dosso, 50. Posso ripararla? 6 sinistra, molto lunga, stringe su dosso, 50. Quattro destra, lunga. In rallenta, 6 sinistra, su crinale. 30. 1 sinistra, non tagliare. 30. 6 sinistra, 100. Troppi crinali. 3 destra lunga, stringe, tronchi fuori. Apre su crinale, 50. Stretto, 6 sinistra, su crinale. Molto, molto lunga, su incrocio. 30. Questa è da rifare, non sta andando bene. È molto più difficile questo percorso. Tieni il centro su salto, in 3 sinistra lunga, stringe, 80. Oddio mio, se scivola. Piatto destra, su crinale, molto, molto lunga. 30. Non riesce a stare dritta. 3 destra lunga, apre, 80. 5 sinistra, su crinale, molto lunga. No, questa è da abbandonare, ho da ricominciare. Vediamo un attimo. Attenzione, stringe. Vada in zona. Questo è da rifare. Cazzo, è difficile. Chi l'ha provato col volante questo? È tostissimo. Non c'è una ruspo nel gioco per togliere i crinali? Mi sa che li mettono a posto. 5, 4, 3, 2, 1, via. Via un cazzo. Opzioni, comandi. La diminuiamo ancora un po'. Vai. Piatto sinistra, 50. 6 destra, su crinale, non tagliare. 6 sinistra, 50. Piatto al centro, su crinale, 80. Tieni il centro, su salto, 50. 4 destra, stretto, 80. Tieni il centro, su salto, 50. 6 sinistra, su salto, lunga. Stringe su crinale, con salto. 120. Tieni la destra, in 5 sinistra, lunga. Stretto su dosso. L'ho tenuta, l'ho tenuta. In 6 destra, 80. Su crinale lungo, in 6 sinistra, stringe... Su crinale lungo, in 6 sinistra, stringe dopo l'incrocio, 30. Ma non vedi che sto morendo. 4 destra, stretto, su crinale. Non tagliare, 5 sinistra, apre lunga, in 6 sinistra, 30. 4 destra, lunga, stringe su crinale, 50. Non tagliare, 4 sinistra, in 6 destra. In 6 sinistra, lunga, 30. Sei destra su crinale, apre molto, molto lunga, in rallento. No, no, no. Fine. Fine, fine, fine. Buonasera, Giuse. Bello. Però io volevo provare... Io volevo farle tutte in ordine, ma in realtà volevo vedere veloce come questo. La telecamera è da dietro. Ma che dici? Tu me lo dici? Che dici che bisogna giocare col volante e poi con la telecamera è da dietro? No. 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 Ma quale uso qua? Qualcosa di non troppo potente. 300 horsepower. Wars bower. Sì, 100 troppo esagerato, bro. Presto. Questo. Non lo so. Io voglio giocare così. Ma scusa, che cos'è il Joker? Devi per forza passare dalla parte del Joker? Ah, è quello di prima, questo? Non c'è più il tizio che parla. Non c'è più il tizio che parla. Non c'è più il tizio che parla. Chi lo sapeva? Chi lo sapeva? Aspetta, dove devo andare? Mi sono andato dove non devo andare, mi sa. Ma perché? Aspetta, è strano questo. Se è una prova a tempo, perché non... Non ho capito. Ah, si vede che nelle... Nei circuiti così, è diverso. Mi... 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 Mi ero già abituata al navigatore, è vero? Non c'è un po' chi è. Asfalto liscio. Questo è veloce da provare. Giusto per provare, per vedere com'è. Aspirazione naturale. Proviamo questa. Andiamo a se riprende... Se riprende a parlare. Mi manca già il mio amio, il mio best friendo. Che non me li diamo? Sereno, mica tanto. Ehi, sei qui? Oh, sì! Cinque, quattro, tre, due, uno, via! Sei destra, cento, tre sinistra. Centocinquanta. Due sinistra, molto lunga, stringe. In tre destra, non tagliare. Apre su crinale. In cinque destra, lunga. Apre trenta. Due destra, lunga. Senti il turbo. In tre sinistra, trenta. Quattro sinistra. In tre sinistra, trenta. Quattro sinistra. Non tagliare. Uno destra, apre su crinale. In due destra. Porca puttana! Non tagliare. Due sinistra, lunga. Apre e stringe. In cinque destra, su crinale, molto lunga. Attenzione, stringe due lunga. In sei destra, in sei destra, in due sinistra lunga, apre su crinale. Sei destra, in taglia cinque sinistra, apre centocinquanta. Due destra, apre quattro, molto, molto lunga. Cinquanta. Porca miseria. Quattro sinistra, stringe tre supponte. Trenta. Quattro sinistra, stringe tre supponte. Trenta. Quattro sinistra, lunga. Apre in cinque destra. Cento. Stretta quattro destra, in curta, sei sinistra. Quaranta. Porca miseria! Non posso giocare a quest'ora, questo gioco. Quattro destra, apre sei. E crinale in due sinistra, non tagliare. In cinque destra, lunga. Tre sinistra, lunga. Stringi due. Apre sei lunga su crinale, in uno destra, lunga. Oh, merda, 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 merda. Apre, trenta. Taglia poco, tre sinistra, lunga. In tre destra, lunga, su crinale. In quattro sinistra. In quattro destra. In quattro sinistra, lunga. In cinque destra. In taglia tre sinistra, lunga. In cinque destra. Ok. Credo di sì, dai, ma poi penso che certe cose si possono modificare. In sei destra, apre cinquanta. Tre destra, taglia cinque sinistra. Sei destra su crinale, in quattro sinistra, lunga. Taglia poco, cinquanta. Bisogna prenderci la mano. Tre destra, lunga. Apre, in taglia quattro sinistra. Quattro destra, in tre sinistra. Stringe, taglia poco. Intieni la destra su cinquanta. Quattro destra, cento. Cinque sinistra, taglia tardi, molto lunga. Trenta. Basta prendere una roba che figa voglio dall'altra parte del pianeta. Vabbè, ho provato. Sono contenta di averlo provato. Sono contenta che l'ho comprato. No, perché questo ci accompagnerà durante le serate racing. Le prove, tempo, tanta roba. Tantissima. Crea un campionato singolo online. Oh. Si può giocare anche con voi, magari, volendo. La mia squadra. Questo è figo. C'è un negozio? Che puoi comprare? Ah, vabbè. Se guardi qua, forse, è su Steam. Ma c'è anche il VRC. Bene, bene, bene. Hai messo le software online, colpa della strategia Ferrari. Colpa sempre della strategia Ferrari. Bellissimo. Non credo di avere la versione completa, non lo so. Non dovrebbe esserci questa roba? Come fate a capire se ho la versione completa? Ho il Dirt Rally 2.0. Quindi, boh, acquista del... Vedi? Colin McRae, Flatout Pack, non ce l'ho. Costa 10 euro. Vabbè. Bello. Fammi uscire. Bellissimo. Da giocare, da giocare. Però, raga, prima di giocare col volante, cioè, io ci pensare due volte, un attimo. Cioè, pensate... Ma vedete voi come girava le mani? Come le girava veloce? Cioè, io suderei sette camicie a far le gare qua. Però, secondo me, è comunque da provare. È assolutamente da provare col volante. Bellissimo. Detto questo, io vi saluto. Si è fatta una certa. Qualcuno domani si sveglia presto per andare a lavoro. Quindi ci vediamo domani sera con le reaction al post GP. Assolutamente sì. Io sono di provincia di Catanzaro. Volante è meglio, lo senti bene, voli. Proveremo, proveremo. A voi è piaciuto, no? Da vedere? Con tutti i miei schianti. Mi è piaciuto, raga? Poi non so cosa scrivevate, perché... Guidavo. Va bene. Ok, bene, Giuse. Buonanotte, fate i bravi. Ci vediamo domani verso le otto. Verso le otto, reaction post GP, dinasca e così via. Guardiamo tutte le robe che guardiamo sempre, parliamo e facciamo altre robe. Ti voglio vedere nel podio di un campionato.